E con molto piacere che porto i miei auguri personali e a nome di tutta l'amministrazione comunale che rappresento in questo calendario dell'avvento. Una comunità sotto l'albero che con il contributo delle scuole e delle realtà associative del nostro territorio si stringe e si tiene vicina. Peraltro l'intuizione delle associazioni di voler anche per quest'anno pensare ad un calendario di eventi quasi prevalentemente digitali si è rivelata effettivamente estremamente responsabile. Il Natale è un momento di gioia ma è anche un momento di riflessione, è un momento nel quale pensiamo alle persone che ci hanno lasciato, alle vittime degli incidenti stradali, alle vittime degli infortuni sul lavoro, alle vittime del covid e a tutti coloro che non ci sono più e ci stringiamo idealmente attorno ai loro cari. Nonostante questa pandemia stia tentando di essere profondamente divisiva, dobbiamo rimanere uniti e consapevoli della nostra forza. Affrontiamo il 2022 con lo stesso entusiasmo con il quale abbiamo accolto il 2021. Auguro a tutti voi un buon Natale e un sereno 2022.